Cos'è il Token Software? È lo strumento virtuale per accedere con il tuo smartphone all'Internet Banking e all'app mobile in sicurezza e facilità ed autorizzare le operazioni disposte. Vediamo insieme come attivare il Token Software in due step. Attivazione del Token Software Accedi a BAPR Online con le tue credenziali ed effettua l'autenticazione tramite Token Fisico o Secure Call. Clicca sull'icona delle impostazioni in alto a destra nell'area delle informazioni. Dal menu a discesa, seleziona la funzione Password e sicurezza. Infine, clicca su Attivazione Token Software. Leggi le istruzioni riportate nella finestra e clicca sul bottone Avanti. Poi scarica e leggi il documento PDF, quindi spunta la dichiarazione di presa visione. Seguirà la richiesta di chiamata al numero verde con il PIN da digitare. Abilitazione del Token Mobile in App Dopo aver terminato la fase su BAPR Online, accedi all'app BAPR at Mobile con le tue credenziali per abilitare il Token Software. Impostazione PIN Accesso Completa la procedura impostando un codice mobile PIN numerico a 6 cifre. Ricorda di memorizzare o annotare il mobile PIN perché è la chiave di sicurezza per accedere ed autorizzare le operazioni in Home Banking e App Mobile. Conferma PIN con codice SMS. Dopo aver confermato l'inserimento del mobile PIN, riceverai al numero di cellulare un SMS con un codice a 6 cifre. Digitalo nel campo vuoto e clicca su Avanti. Il tuo Token Mobile è stato attivato. Puoi usarlo adesso al posto della Secure Call o del Token fisico. Autenticazione con dati biometrici Se il tuo dispositivo mobile lo consente, puoi anche attivare il riconoscimento facciale o l'impronta digitale da utilizzare come chiave di sicurezza, in alternativa al mobile PIN di 6 cifre. Adesso, prova quanto è semplice e sicuro l'accesso con il Token Software. Con l'attivazione del Token Software, puoi accedere a BAPR Online e BAPR At Mobile con il mobile PIN che hai creato o tramite dati biometrici. Non sarà più richiesta la chiamata al numero verde nel PIN temporaneo generato dal token fisico. Accedi a BAPR Online da PC o tablet con le tue credenziali. Nell'app si attiverà la notifica per confermare l'accesso con il Token Mobile, tramite Mobile PIN o con fattore biometrico. La procedura di autorizzazione dall'app è uguale per confermare le disposizioni. Con BAPR At Mobile entri in banca, ovunque ti trovi.